Questo Islam veramente impossibile, drammatico e sanguinoso non può durare. Non può durare perché è contro natura, non può durare perché non è l'Islam preso nel suo senso proprio naturale e genuino. Monsignor Maroon al-Ham lo ripete senza sosta. I fanatici del califato islamico sono la negazione stessa dell'Islam, dell'umanità. Lui, vescovo di Amman, lo ha capito nello sguardo terrorizzato dei cristiani scappati da Mosul e accolti in Giordania. Hanno preso tutto l'oro, i vestiti, le macchine, i soldi, sono partiti così proprio, delle sofferenze. Ha detto, l'unica cosa che abbiamo guadagnato è la nostra fede, nessuno di noi si è fatto musulmano. Monsignor Laham in questi giorni è a Torino, all'arsenale della pace. Anche da qui potrebbero partire presto aiuti per i profughi. Al di là dell'emergenza, le cause però sono tutte politiche. Questi fanatici non sarebbero nati e non sarebbero diventati così forti se non fossero appoggiati da gente forte, da gente potente, da gente che ha i soldi e che ha le armi. Il riferimento alle potenze del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, manca all'Occidente. Debole e inadeguato, dice il Vescovo, servirebbero azioni forti. È una vergogna all'Occidente e più ancora agli Stati Uniti perché sono intervenuti solo quando i fanatici sono arrivati nel Kurdistan dove loro hanno degli interessi politici e economici. L'unica scelta per tanti cristiani e di altre minoranze è la fuga. Una sconfitta per tutti, soprattutto per paesi, culla della civiltà e di una convivenza di secoli. Qualcuno tornerà.